E' stato baciato dalla fortuna e pare rendersene conto, visto il suo atteggiamento docile e curioso. Questo esemplare adulto di sesso femminile di istrice, un roditore di grandi dimensioni oramai rarissimo in Puglia, è stato salvato dalle grinfie di un predatore, forse un cane randaggio o una volpe, ed è stato ritrovato sul ciglio di una strada e consegnato ad un appassionato specializzato nelle cure di animali selvatici feriti. Vincenzo Troilo di San Severo, che di gheppi, poiane, fenicotteri rosa, ricci e oggi istrici, se ne intende, lo ha accolto a casa sua, ha medicato la ferita al collo e lo sta rifocillando con frutte e tuberi in attesa di consegnarlo a mani esperte e accreditate che potranno rimetterlo in libertà. L'istrice è un animale sempre più raro, ma non è la prima volta che lei recupera questo tipo di animali? Certamente, l'istrice è la prima volta che lo recupera, però in tantissimi anni ne ho recuperato migliaia di animali, dalle tartarughe, uccelli in particolare, ogni anno almeno un 450-500 uccelli e li salviamo. C'è tanta gente che li porta appena li ritrova, feriti o caduta in niti e qua provvediamo a curarli, a svezzarli e dopo li liberiamo tutti quanti. Quelli che sono in una fase critica di salute, cioè che non possiamo aiutare noi perché sono feriti, hanno le ali rotte, li mandiamo a un centro di recupero rapace di bitetto che è competente per la regione. Un animale che nella nostra zona è assolutamente raro. È introvabile, una volta ci sta, tanti anni fa ci stava, però ultimamente mi sono informato che non esiste nelle nostre zone, anche se internet porta che ci stanno in Puglia, Calabria, Basilicata. Io, come mi sono documentato, vive nelle Marche, in Umbria, nel Trentino e in pochissime altre regioni d'Italia, quindi è rarissimo e quindi è altamente protetto.